Buongiorno, buon Natale, buon Santo Stefano a voi amici, famiglia, i vostri cari, buongiorno, buon Natale anche agli incompetenti e a quelli che credevano che l'Inter sarebbe stata scarso, comunque sarebbe stata più debole l'anno scorso e ora lo proveremo e buongiorno anche a quelli che dicevano no, l'Inter non va sul mercato, che mercato è? Buongiorno anche a loro. Allora, prima di tutto un avviso ai naviganti, se siete superstiziosi non festeggiate il Santo Natale e Gesù bambino, anzi Gesù che diventa Cristo, il più grande ultras della storia, che cambia il mondo e insegna all'uomo un nuovo modo di vivere, molto più vicino al Divino. Quindi se credi a Natale non puoi essere superstizioso con i cornetti, ok? Io non sono superstizioso. Quindi quando ho detto quest'anno l'Inter è la strafavorita, ho detto l'Inter vincerà, ho detto è la strafavorita da fine giugno e adesso guarderemo un tweet, parleremo di mercato e guarderemo come oggi la gazzetta sia in buona e sia intelligente perché la pensa come me. Il primo articolo è questo qua, pensate la gazzetta come apre, pensate quante volte mi sono dovuto sentire dire no, l'Inter in attacco non fa niente, l'Inter in attacco, l'Inter in attacco, ma incluso Marotta, ma io so quando Marotta parla e ho delle fonti e poi ve le svelerò. Inter, Arnautovic e Sanchez non bastano da Taremia Marziale, ecco tutte le piste per l'attacco. Di colpo, di colpo tutte le frasi rimaniamo così, Arnautovic e Sanchez bla bla bla, non perché la gazzetta abbia la verità in tasca, anzi, voglio dire sappiamo benissimo, però insomma io quello che so è che hanno promesso a Inzaghi che anche in attacco non butteranno via una stagione perché al di là del bene che Arnautovic vuole all'Inter e anche della sua forza perché Arnautovic ha dei colpi che in attacco nessuno ha ed è comunque un giocatore utilissimo, grande interista, attaccato alla maglia ma anche intelligente, poi non è scarso, vale 10-12 quello che abbiamo pagato, 8-9 e fa il suo, Sanchez è forse, forse addirittura un pochino meglio dell'ultimo Sanchez che non è mai stato Nino Maraviglia da noi, però detto questo, in attacco si sta lavorando 2-2 sulla fascia destra visto che per noi il gioco sulla fascia è fondamentale, ovviamente si interverrà e questo Buchanan con la pronuncia un po' canadese pagliaccia sembra proprio lui, sembra proprio lui, l'uomo che verrà all'Inter per fare due cose, per sostituire Quadrado e per rimanerci all'Inter perché Buchanan non viene qua a fare la panca, tanto più che Darmian è diventato sempre di più un difensore di livello internazionale e come il vino più invecchia, come Acerbi più diventa forte, ma cambiando ruolo perché poi Darmian il terzo di difesa non l'aveva mai fatto ora, questo è quello a cui ci stiamo avvicinando e la differenza, attenzione, quest'anno il mercato di gennaio non sarà un mercato di gennaio fatto come è sempre successo, una roba che io non ho mai capito, ho sempre contestato, non sarà un mercato di gennaio dove fai il mercato a gennaio e poi io mi ricordo, ho fatto dei video, non so, al 31 di gennaio ero lì allo Sheraton a Milano ad aspettare che arrivasse Tizio Caio Semprogno vi ricordate anche il discorso Giroud o là col suo procuratore, sono andato a testimoniare questo mercato di gennaio che sembravano non dovesse succedere chissà che cose e poi non succedeva mai un cazzo invece quest'anno è il mercato di adesso per fare in modo che i giocatori a gennaio vadano in rosa quindi sembra chiuso Buchanan ma dobbiamo aspettare perché ovviamente da un lato c'è chi come me pensa che la trattativa sia iniziata molto tempo fa perché Buchanan era uno degli obiettivi, ausilio è pazzo di lui e lo capisco è un giocatore, ho fatto il video molto diverso da tutti, forse quello a cui ossomiglia di più è proprio Quadrado per il discorso del dribbling ma c'è il video, se siete interessati ve lo metto sotto il discorso è che secondo me questo mette un pochino di pepe nelle chiappe a Dumfries che probabilmente si sente sto cazzo, ho detto col massimo rispetto perché l'ho sempre difeso però conosco anche i suoi limiti e se mi chiedi 4,5 di stipendio insomma sapendo che hai mercato, sapendo che sei migliorato, sapendo che puoi valere certi soldi mi tengo Buchanan, poi già detto sulla fase difensiva Dumfries è migliorato perché se prendiamo pochi gol è anche merito suo però poi entriamo meglio nel discorso del mercato però non è vero che l'Inter non si muove non è vero che l'Inter quest'estate si indebolita e poi leggeremo i messaggi su Twitter quando io scrissi a giugno, a luglio, ad agosto, a metà agosto questo forse è un tweet che vi farò vedere poi l'ho scritto in tutte le strade, favorita, strafavorita al di là di chi arriva anche col portiere volante c'è un tweet in cui scrivo, non c'era ancora Sommer però doveva venire, parlavo di Sommer poi c'era Samadish che era nostro, no? poi è saltato tutto e io ho detto questo è del 15 agosto ad oggi l'Inter è la favorita per lo scudetto questa è del 15 agosto poi dopo 15 agosto io vi leggo sotto, lo so il primo che vi leggo è una squadra indebolita rispetto allo scorso anno addirittura favorita Juve senza Coppa è una squadra che non ha subito cessioni i Napoli campioni in carica Milan rinforzati io credo che sarà dura andare in Champions quest'anno Andrea dice sarà dura andare in Champions quest'anno io gli dico ah ah ma dai sarà dura andare in Champions quest'anno vabbè Goat io la vedo molto male l'Inter quest'anno ma spero che avrai ragione tu come sempre quasi vediamo se finisce come i due anni precedenti allora poi ci lamentiamo se a fine anno ci prendono per il culo ma come si fa a pensare quando oggi non è stata comprata una vera punta è un braccetto destro titolare peggiorati in tutti i reparti senza Samardic anche a centrocampo dove è Michetarian che Dielo Benadica è uno che salterà otto mesi su dieci ve lo faccio leggere è uno tanto sono social sono pubblici ok dov'è è uno che salterà otto mesi su dieci senza punta e senza sostituto di schegna dai siamo seri ma che ti sei fumato Skriniar cambiato con Bisse con Ana con Sommer Zeko con Arnautovic e Lukaku con Tunan Fabio prendiamo due gol a partita come cazzo facciamo a essere i favoriti secondo me la favorita è la Juve Bergomi smettila non lo è e lo sai a oggi l'Inter non arriva in Champions segnalo senza Brozovic perdete il 90% del potenziare Giampiero Monte su che base non fai per 16 partite se avesse sostituito Lukaku con un top sì ma così mi spiace no abbiamo sempre avuto un ottimo centramanti da anni Fabio Ferragosto rilassati buono il Tavernello la favorita è la Juve non scherziamo come si fa delle sue favorite queste minchiate le dicono le tue fonti no Fabio sì come no l'olandese volante che mi rompe sempre i coglioni le puttanate spari ogni giorno sono veramente tante Fabio e Napoli avanti tutti noi siamo dietro a loro purtroppo alla lunga di non avere un braccetto e Brozovic che va via lo pagheremo l'attacco è peggiore dello scorso sulla carta e anche la difesa Damiano e Cervi ripeteranno fasce centrocampi migliorate comunque viene da Giustri dipenderà dall'atteggiamento tattico cioè il favorito è Allegri ma vai a fare in culo sì certo con un attacco da metà classifica posa il vino favorita per il triplete dillo senza ridere hai preso il caffè che ho detto con la grappa ma in quale mondo basta favorita sto cazzo questo non è fattuale è una cazzatina posa il fiasco Arnatovic Correa quante puttanate spari in un giorno ad oggi la cosa nel complesso è peggiore di quale l'anno scorso Babbio domani stesse cose che leggevo lo scorso anno no perché dissi terza quindi non è vero ma non dire cagate poi c'è un'ambulanza che mi viene a prendere ad oggi l'Inter è da sesto posto ad oggi l'Inter è da sesto posto verso novembre ci arriverete tutti nel frattempo casiamoci per il ritorno non so che ah le derivate del triplete che è andato amici di 15 anni fa ad oggi l'Inter è da sesto posto vai in ferie basta pescare ma basta ma in che moniverso pare lo vivi beh per esempio Attila dice non so se siamo i favoriti ma so che sono che lotteremo sono sicuro che lotteremo fino in fondo in quale campionato ma dove vivi il Milan è una squadra che va a mille all'ora davanti la Juve senza gli infortuni la mette a pari all'Inter Napoli magari non vincerà ma darà fastidio l'Inter la si conosce è tosta ma in attacco quest'anno è un dramma ragazzi levati dai coglioni è un dramma ok queste sono ok in attacco avete perso due certezze per un giovane che non è manco un vero nove è Arnautovic a centrocampo perso Brozovic per prendere un doppio di Barella in difesa al momento c'è un bistec in più unico miglioramento Augusto per Gosens in porta peggiorati questi qua sono i messaggi di agosto ma sono tutti così nove su dieci nove e mezzo sono così sono questi in porta peggiorati poi siccome erano due le cose che voglio dire il primo era faremo mercato e tutti dicevano di no la seconda cosa che vi stavo dicendo alla gazzetta erano due le cose che la gazzetta ha postato l'altra cosa che ha postato è questa roba qua allora la miglior difesa d'Europa 25 di partita di fila in gol tutte le cifre che fanno volare l'Inter non solo la gazzetta dice che facciamo mercato quando diceva di no però è marotta io dicevo ragazzi io ho queste notizie guarda mai nella storia del club un allenatore qui merita in zaglia e aveva portato i suoi avversagli per così tanti match consecutivi cioè questa Inter è 25 per te che segna insieme alla retroguardia e qui mi sono speso in 150 video impermeabile ci sono tutti i presupposti per essere imbattibili cioè capito quindi messaggi di quest'estate come sempre sconfortanti dopodiché si va a vedere il calcio non è condensabile scondensabile mi fai di numeri ma ecco i numeri 25 partite dove si segna in maniera consigliata l'attacco dove tutti tutti contro Turam allora 41 reti dopo 17 giornate sono 10 più del Napoli che è seconda se le altre neanche le vediamo ok il Toro è uno splendido finalizzatore solamente Augusto Bissec anzi no scusa questi hanno segnato mancano De Vrij Pavaro Bastoni Darmiani Aslani che sicuramente segneranno e poi hanno segnato tutti segniamo da 25 gradi la difesa per quanto riguarda l'incredibile solidità del reparto all'entrato tocca ripetersi da inizio stagione io ho detto ragazzi sì ho detto anche Inzaghi ma sistema la difesa che questa squadra qua non prende più gol abbassi il baricentro giochi in maniera più coperta non prendi più gol vi ricordate le polemiche dell'anno scorso quando poi non vincevamo ma prendevamo gol io dicevo ok non vinci ma almeno non prendi gol bene ecco qua trovata la soluzione per merito di Sommer ma anche dei suoi scudieri risultato sto con gli occhi 11-12 12 clean sheet in campionato primato a livello continentale quindi miglior difesa perché mi hanno preso 7 gol e 12 clean sheet con Onana che intanto va alla United e fa quello che fa e Sommer che invece insomma quindi partendo dal discorso attacco e partendo dal discorso difesa e da tutti questi record poi la gazzetta riassume e dice è come se l'Inter partisse ogni partita con due reti di vantaggio mica facile poi ribaltare la sua azione quindi due concetti tutte le favole raccontate anche da Marotta perché il suo lavoro sul discorso non si fa mercato io so che in attacco non sono contenti sul discorso di Arnauto vi sono abbastanza contenti su Sanchez preferivano uno più pronto e più lesto abbiamo visto che senza Lautaro comunque si può far bene ma si può anche soffrire un grandissimo Turan come l'Inter aveva raccontato si è rivelato tale però serve una punta e vedrete che andremo sulla punta poi sull'esterno non solo ci siamo andati perché Quadrado si fa male ma a quel punto siamo andati secondo me su quello che era l'obiettivo già per l'anno prossimo visto che su Dunfri ho dei forti dubbi e qualcosa mi è arrivato ma aspetto come vi ho detto le fonti di questi giorni sul discorso di quest'Inter bastava a sistemare la difesa in maniera poi è quella dell'anno scorso lascia stare Pavard che poi è entrato si è fatto male alla fine l'Inter ha giocato spessissimo lascia stare Bissek che è esploso in maniera vertiginosa le ultime partite ma poi alla fine l'Inter cambia il portiere quindi prende Sommer dopodiché spesso gioca con bastoni Darmian e Acerbi o De Vrij quindi sono gli stessi che in una situazione di tattica diversa e più coperti anche da Di Marco e da Duunfris quando giocano eccetera eccetera riescono a fare a fare molto meglio in quella situazione tattica però questo è un video di tattica è un video dove insomma dopo Natale leggendo un po' tutti i giornali eccetera eccetera abbiamo i complimenti all'Inter che l'Inter si merita perché i numeri sono questi e quindi vanno a sconfessare tanta negatività che c'era quest'estate quando io ero il coglione che diceva ma non lo so io vedo una squadra fenomenale vedo una squadra fortissima che ci darà grandi poi non è si può io ho visto Inter fortissime non vincere non è che poi devi vincere però se mi avessi letto ad agosto ma neanche agosto a giugno quale squadra vorresti per vincere lo scudetto sai tipo chi vorresti allenare l'Inter ma è una rosa meravigliosa da allenare e così è stato e la seconda cosa per adesso quindi io non sono superstizioso ma credo che l'Inter l'intervianamente tra un po' fa il vuoto cioè noi adesso abbiamo andiamo a Genova col Genoa e abbiamo vinto in tutti gli stadi non credo che a Genova avremo difficoltà e poi abbiamo Verona in casa con tutto rispetto da abbattere e a quel punto lì giri a 50 punti se giri a 50 punti poi ne hai ancora un paio tranquille ora che arrivi a giocare la sfida con la Juve in casa a San Siro mi pare il 4 febbraio è capace che sei avanti di 12 punti e non sto scherzando perché poi c'è un'altra roba che ho fatto mi pare sul CV in cui ho raccontato di un Inter che avrebbe fatto avrebbe poi girato si sarebbe trovata a Genova e Febbraio a più 10 più 15 vabbè io non sono il mago in indovino del cazzo dico che così come l'anno scorso avevo dei dubbi ho detto ma per me l'Inter veramente deve guardare la Champions perché ci sono delle robe che non mi convincono il ritorno di Lukaku con Dzeko c'erano delle robe ma non è solamente a volte non è solamente la squadra è quello che vedi in campo le sbracciate lo spogliatoio gente che non si annuda i leader che non è leader quest'anno si vogliono bene è un gruppo che va a cena insieme e questa cosa ve l'ho raccontata quando sono andati tutti a mangiare in un ristorante argentino sulle mura spagnola a Milano sono robe che l'anno scorso non accadevano quindi c'è stata una cementificazione di un gruppo e queste cose le ho già raccontate che sono delle cose che portano veramente alle vittorie quindi benissimo i tweet quest'estate alla faccia degli incompetenti benissimo il fatto che l'Inter sul mercato si muova sulla fascia si muova sull'attacco proprio e chi lo sa che si porti già avanti in difesa anche se sulla difesa è il reparto in cui siamo più tranquilli ma mai dire mai sul centrocampo lo sapete Zelensky verrà da noi quindi qualcosa accadrà io in testa non è che ho cose strane Zelensky Mkhitaryan Barella Frattesi Aslani ricomincio ah sì è Ciala scusate sì Ciala Aslani Frattesi Mkhitaryan Barella Piotr Zelensky e vanno via quindi si prende arriva un calciatore e giocando a tre ne hai sei va via un calciatore ci arriva un calciatore e vanno via Sensi purtroppo Klassen e Agumet quella è l'operazione ah prendi anche Zelensky non ti serve no serve e l'operazione è questa qua poi in difesa su 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 non lo so probabilmente un colpo a zero al di là dell'infortunio un grandissimo campione vediamo vediamo e ecco lì lì magari si pensa in chiave a Cerbi De Vrai in chiave futura prendendo un giovane e vedendo un po' che cosa può fare poi è quello che succede anche prendendo Bissek no si cerca di inserire i giovani vanno inseriti quando la squadra è forte non quando è debole se tu prendi Coutinho vi ricordate Coutinho con la squadra debole poi alla fine rischiava i fischi Coutinho che poi va in giro per il mondo e solleva la Champions solleva no è quello il discorso o Kovacic il problema è che invece devi avere una squadra forte come era il Milan all'epoca ma anche l'Inter poi dentro la squadra forte metti i calciatori nuovi che diventano forti ok mi ha fatto questo podcast buon santo Stefano auguri a tutti Stefani e mi raccomando sempre essere pessimisti forza Inter quest'estate avevo intravisto un po' il bello che non è che ho detto grande Inter sarà una grandissima Inter che ci darà grandissime soddisfazioni tifiamola tutti insieme e perché veramente infatti siamo partiti ragazzi l'Inter ha vinto tutte tranne il pareggio con Bologna il pareggio con la Juve che è la diretta a Versalia e una ci può stare la giornata storta col Sassuolo e vaffanculo ma le abbiamo vinte tutte di cui molto in trasferta sul mercato siamo attivi stiamo facendo lo stadio lo stadio sembra proprio bello poi faremo il mio caro amico che mi racconterà tutto sulla zona di Rozzano a Sago eccetera anche se il comune è Rozzano avremo dei cambi in dirigenza abbiamo preso degli ottimi sponsor siamo la tifoseria più presente d'Italia ripeto sul mercato siamo attivi in quello che vi ho raccontato e nei numeri è una squadra devastante poi mi giro e vedo il Napoli che dimentica Mazzari l'autobus si rinnova Osimel ma il resto è un disastro ancora un po' la meglio Garcia la Juventus che ci sta dietro con tutti i problemi e gli infortuni gioca una partita sola in effetti fa strano vedere che abbiamo solo 4 punti vi distacco con la Juve dove l'unico rammarico è non essere andati a Torino con la stessa faccia tosta con cui siamo andati a Roma con la Lazio o a Napoli però vabbè ci può stare ma la sua presa è la Juventus poi guardi il Milan è arrivato Ibra si parla di Conte al Milan si parla di Palladino si parla di non so di quanti allenatori insomma mi sembra che Pioli abbia finito il ciclo quello che serpeggia è proprio una rottura gente che non saluta più questo è quello che dicono loro dopodiché non parliamo di Atalanta Roma e Lazio perché insomma non mi sembrano che viaggino come viaggiavano in altri anni come quando la Roma combatteva per lo Scudetto o anche la Lazio mi sembra veramente quindi cioè no in tutto questo di positivo che avevo un pochino predetto e che mi aspettavo accadesse ci abbiamo anche messo dentro una Champions dove Inzaghi insomma un Champions si sa che è fortissimo e abbiamo superato un girone da secondi ma poi pescando l'Atletico e magari evitando una squadra più forte ecco l'unica roba secondo me che l'Atletico è veramente insidioso poi qualcuno dice che il trasferto non è così forte l'abbiamo visto con Lazio del Girone secondo me l'Atletico è una brutta bestia ma poi ci penseremo per il resto dobbiamo essere felici e imparare a goderci questi momenti perché abbiamo fatto quasi 7-8 anni dal 2012 2011-12 fino al 2018 insomma a soffrire a gioire per un quarto posto con Spalletti raggiunto a fare la festa perché era una festa andare in Champions ma ce n'era sempre una lo spogliatoio questi i cardi i soldi vedere i gobbi vincere è stato veramente un periodo lunghissimo anche se veniva poi dal massimo che una squadra può fare in Italia nel mondo cioè vincere tutto arrivavi da lì quindi sapevi che per qualche anno si poi ha vinto una Coppa Italia nel 2011 poi l'anno dopo poi ecco diciamo che quando nel 2014 hanno salutato Samu e Milito Zanetti lì hai capito che poi va via Moratti e lì ci sono stati momenti durissimi quindi godiamoci il presente adesso pensiamo al mercato al futuro però cerchiamo di capire che siamo i tifosi migliori siamo sempre allo stadio in tutti gli stadi abbiamo uno stadio poi il mente finalmente in costruzione dove tra poco partiva un progetto sul mercato abbiamo una dirigenza fenomenale che ha fatto pochissimi errori e una marea di successi abbiamo giocatori che già valgono il doppio o che valgono 40 50 in più pensate a Onana come è stato venduto pensate a Ciala pensate a quanto valgono tutti quelli presi a zero e stiamo comunque lavorando sul mercato in campionato io non so abbiamo i punti del Napoli se facciamo i partiti viaggiamo alla media della Juve di Conte dei record noi rischiamo di battere tutti i record la difesa è impenetrabile e non so 12 partite non ci riescono a fare gol dobbiamo essere felici quello intendevo dire e soprattutto mi permetto di dire mamma quanta negatività questa estate ma a me spiace per i giocatori per l'Inter mi dispiace per i dirigenti che comprono giocatori e vengono presi per il culo mi dispiace per gente come Turam che viene qua e sembrava il coglione mi dispiace mi dispiace c'è c'è tanta incompetenza ma anche tanto pessimismo godiamoci questa grande Inter e godiamo il fatto che si può vincere o si può perdere l'importante è l'importante è competere a me basta questo poi l'abbiamo visto si può vincere o si può perdere però competere è la cosa più importante cioè dire ok parte lo scudetto noi ci siamo a proposito sul discorso scudetto vorrei chiudere dicendo che nella mia ignoranza io ho sempre detto una cosa da sempre cioè da quando l'Inter hanno usato lo scudetto cinque anni fa quattro anni fa poi l'ha vinto e in questi anni ha corso per vincerlo io ho sempre detto ragazzi ma al di là del sogno Champions che è un sogno che l'anno scorso abbiamo vissuto facendo una Champions bellissima perché è una Champions lineare proprio bella al di là delle coppe minori no? che vinci con poche partite che poi alla fine non hanno non fai il libro dello scudetto cioè scusa non fai il libro della Coppa Italia o il libro della Supercoppa fai il libro perché lo scudetto è forse qualche ragazzo adesso l'abbiamo vinto tre anni fa ma prima di vincere tre anni fa c'erano ragazzi che avevano dieci anni e quando l'abbiamo vinto ne avevano 20-21 cioè il vincere lo scudetto è una cavalcata cioè ci fai un film ci fai il DVD ci fai la storia l'abbiamo fatta noi il Milan il Napoli quando vinci lo scudetto c'è una storia dietro c'è una cavalcata di 38 partite ci sono mille episodi che accadono una storia cioè lo scudetto porta con sé qualcosa di è una gloria la Champions non ne parliamo la Champions è il massimo possibile nel calcio mondiale però è veramente qualcosa ecco l'Inter la vinta dopo 45 anni pensate a Barcellona che tra un po' non la vince da 10 pensate a squadre che magari non lo so lo United già non lo vince da un bel po' perché è caduto in disgracia non è facile vincere la Champions è qualcosa di ci sono squadre che l'hanno mai vinta Londra ha vinto la prima Champions ai rigori col Chelsea se no una città come Londra c'ha due Champions tutte e due vinte dal Chelsea una ai rigori ma negli anni recenti il Barcellona vince la prima Champions nel 92 quindi quando l'Inter è già stata sul tetto del mondo e andava a giocare in Argentina le partite ma come anche il Milan no quindi ecco al di là di questa bellezza fantastica la Champions però è fatta di è rara perché è un insieme anche di fortuni lo Scudetto invece è ed è sempre stato in ultimi anni il vero obiettivo quello che poi ti fa fare il libro che è lì perché I am Scudetto il libro è lì sotto l'albero di Natale c'è lo Scudetto che è il momento in cui tutti ci troviamo insieme in centro tra l'altro l'ultima volta non c'era neanche lo stadio aperto avevamo festeggiato fuori che è stato bellissimo ma lo Scudetto è se poi lo vinci prima sono mesi e mesi di cori e di feste ed è un obiettivo che ti riempie il cuore lo riempie i giocatori lo riempie le società lo riempie i tifosi lo riempie l'allenatore lo staff perché lo Scudetto è una cavalcata e quindi io mi sono sempre speso sempre anche l'anno scorso ho detto ragazzi dopo che abbiamo perso col Milan l'obiettivo Scudetto c'è l'obiettivo lo Scudetto perché è quello più importante nei trofei dove puoi lottare per vincere ok è il più importante anche in Coppa Italia puoi lottare ma lo Scudetto è qualcosa che e quindi anche qua ecco diciamo che ho ritrovato anche un paio di video in cui spiego razionalmente in dieci minuti proprio perché lo Scudetto è non un obiettivo ma l'obiettivo poi quando l'Inter sarà come spero tipo Real Madrid oggi è uscita la classifica dei giocatori più che valgono di più e Real Madrid ce ne ha 4 o 5 c'ha Rodrigo Valverde Vinicius Beningham di Real c'ha 4 giocatori che superano come valore i 100 milioni noi ne abbiamo uno che lautarono che è appena entrato cioè rendetevi conto della potenza quando noi avremo 4 o 5 giocatori sopra i 100 milioni più una panchina lunghissima allora è ovvio che uno dice anche la Juve quando è stata forte ha detto no noi puntiamo la Champions infatti ha fatto due finali ma aveva una squadra devastante per essere devastanti ci vuole tempo fortuna e soldi altrimenti io dico sempre che vincere ma anche vincere scudetti scudetti poi questo qua della Stella è il vero obiettivo dell'Inter che puoi toccare e che poi puoi festeggiare con i tuoi fratelli tanti auguri e ci sentiamo presto per una live per il mercato da tre giorni si gioca e quindi vi abbraccio e ancora auguri e quindi